Buon mattino, ben alzati a quelli che sono già operativi, ben operativi, io sono con voi per accompagnarvi da qui fino alle 8 con buona musica, ma anche con le nostre conversazioni mattutine appunto tra un pezzo e l'altro, sempre con un ospite nuovo. Quello di giornata, anzi quella di giornata è un'avvocata, un avvocato, avvocata, me lo dirà lei, una collega peraltro, Maria Giovanna Bloise. Maria Giovanna, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, grazie Ugo. Buongiorno da Firenze. Sì, da Firenze. Anche se sei calabrese, trapiantata in questa meravigliosa città, da quanto tempo sei là? Quattro anni. Quattro anni, ormai ti sei ambientata insomma. Sì, sì, ormai sì. Ma che fai, riscendi oppure hai deciso di stare là a lungo? Penso di rimanere qui. Peccato, peccato. Noi tendiamo sempre ad esortarli, a tornare indietro i nostri talenti, vabbè, magari un giorno, dai, intanto realizzati. Mai dire mai. Mai dire mai. Maria Giovanna Bloise è una collega, è un'amica, si sta segnalando in questo periodo per un lavoro davvero molto interessante, ma anche triste da un certo punto di vista perché intreccia o meglio incrocia la realtà terribile della violenza sulle donne. Il 2021, l'anno che sta quasi per concludersi, Maria Giovanna, io non ho visto le statistiche, ma è davvero orribile. Femminicidi di continuo, violenza di continuo. Tu hai dedicato un pamphlet, una vera e propria opera, uno scritto sul reato di stalking, peraltro, vero? Sì, sì. Di che cosa narri? Allora, parlo del reato di stalking alla luce delle recenti notifiche, la giurisprudenza in materia, la differenza tra lo stalking e la molestia, quindi sia spunti giuridici che psicologici, la psicologia dello stalker, i danni canzonati alla vittima e la tutela della vittima di atti persecutori. E di questo parleremo nei rigori dei tempi che ci sono concessi nella puntata di oggi di Floro in tanti minuti. Maria Giovanna Bloise, autrice del delitto di stalking, riflessioni giuridiche, psicologiche, come ci diceva, criminologiche, su questo odioso reato che insieme ad altri odiosi reati, purtroppo, sta caratterizzando le cronache ogni giorno, perché ogni giorno ci sono notizie di violenze. Tutto questo sta diventando intollerabile. Va fatta una seria riflessione anche a livello legislativo, cara Maria Giovanna, perché temo che a fronte di alcune innovazioni normative che comunque ci sono state, i progressi, i risultati non ci siano proprio per nulla. Ma di questo con te parleremo tra poco. Se voi sullo stalking e su altro, ovviamente sempre attinente al tema della puntata, voleste interagire con noi, sappiate che a disposizione avete la nostra consueta infoline whatsapp, il 335 12 21 469. Tra poco, insieme a Giovanna Bloise, parleremo di stalking e di altro. Diretto da Firenze, Maria Giovanna, sul finire dello scorso intervento, dicevo che alla luce di questa esplosione terribile di violenze nei confronti delle donne, probabilmente qualcosa e più di qualcosa non va. Ci sono stati tanti pacchetti normativi, tante innovazioni, tante leggi volute peraltro da un'alleanza di donne parlamentari, di legislatrici sia alla Camera che al Senato. Ma poi per quanto concerne il momento attuativo di queste misure che dovrebbero essere a tutela delle donne, poi qualcosa non va, perché il volume della violenza è sempre troppo intollerabilmente alto e noi lo registriamo giornalmente sulla cronaca purtroppo nera, vero? Vero, vero. Come anche il braccialetto elettronico, non funziona, è una normativa che non funziona bene. Tu che cosa hai capito? Come mai queste innovazioni legislative alla fine non hanno sortito l'effetto sperato, e cioè quello di frenare le violenze, perché è una serie inenarrabile di violenze nei confronti delle donne? Guarda, io credo che sia più che altro un fatto culturale, il femminicidio, perché bisogna veicolare tra i giovani il messaggio che la donna non è un oggetto da plasmare, che è donna e in quanto tale ha i suoi diritti. Quindi io credo che più che altro sia un fatto culturale, perché di innovazioni legislative ce ne sono state parecchie, anche buone. Purtroppo è un fatto culturale. Per esempio la legislazione sullo stalking, reato del quale ti sei occupato in questa tua recente pubblicazione, e come la valuti. Parlaci di questo tuo scritto. Nello stalking diciamo che mi insieme di condotte persecutori che generano un danno alla vittima, ingirendo sulle abitudini di vita. E l'articolo 612 bis punisce chiunque con queste condotte retrate, minaccio, molesta una persona, al fine di procurarle un grave stato d'ansia. Ci sono state varie sentenze della Corte di Cassazione, che tendono a tutelare il soggetto passivo, sia la vittima principale, e a rispondere protezione anche ai prossimi congiunti. Però ci dovrebbe essere, secondo me, anche una guida come utilizzare queste misure normative, perché spesso e volentieri anche le donne stesse, che sono vittime di stalking, non conoscono le misure da poter azionare. È vero, Maria Giovanna? È vero, è vero. Da questo punto di vista, secondo me, la giovane avvocatura, insieme all'avvocatura un po' più anziana di professione e di attività, dovrebbero saldarsi e fare anche un'opera di divulgazione. Tu ci hai provato e ci stai riuscendo molto bene con questo scritto sullo stalking, del quale torneremo a parlare tra poco. Informazione di Radio CRT in Floro in tanti minuti, il morning show con il vostro Ugo Floro, in onda ogni giorno fino alle 8, dalle 7 fino alle 8 circa, ogni lunedì, martedì, mercoledì, fino al venerdì. C'è Maria Giovanna Bloise, giovane avvocato, giurista, ma già con buoni trascorsi, soprattutto sul profilo dell'impegno contro le violenze nei confronti delle donne. Maria Giovanna è uscita con una pubblicazione che parla di stalking, un reato purtroppo diffusissimo, a volte anche non denunciato come bisognerebbe. Tu dicevi, Giovanna, ci sono state delle innovazioni normative, però molto spesso non vengono poste in essere un po' per paura, un po' per mancata conoscenza di queste misure a tutela delle donne e forse direi un po' anche perché la tutela non è immediata, è efficace. Tu che ne pensi? Io penso che molte donne, parliamo di donne perché parliamo adesso di femminicidio, però lo so, ricordiamo che anche al femminile, quindi non è soltanto il maschile. Io penso che molte donne non denunciano perché hanno paura di ripercussioni. Quando vanno a denunciare i tempi sono lunghi, anche il fatto del braccialetto elettronico che ricordavamo prima, non viene quasi mai attuato, il divieto di dimora sì c'è, però i controlli non ci sono da parte delle forze dell'ordine. Perché non ci sono secondo te da parte delle forze dell'ordine? È una questione legata alla carenza di mezzi, a carenze anche di tipo organico o è proprio difficile da attuare la tutela? Io penso che è legata a carenze di tipo organico. Certo, perché poi ci vuole un dispositivo di mezzi e di uomini da concentrare sul soggetto pericoloso, sul soggetto denunciato, no? E questo ovviamente toglie alle già povere, diciamo la verità, povere risorse delle forze dell'ordine e energie. Ci auguriamo davvero che gli organici verranno rimpolpati, ci sono da questo punto di vista importanti occasioni, importanti occasioni finanziarie per lo Stato per poter coprire qualche lacuna. Nella tua pubblicazione, Maria Giovanna Bloise, tu parli anche delle recentissime modifiche al delitto di stalking. Che tipo di modifiche sono e secondo te vanno ulteriormente incontro alla tutela della donna? Allora, le modifiche, oltre il 612 bis che punisce chiunque molesta una donna, abbiamo l'emanazione di due decreti legge, il primo 7 del 2013, il numero 78, convertito in legge, la legge 9.8 del 2013, il numero 94, con modificazioni. Poi anche la giurisprudenza maggioritaria si è data da fare, la classifica come un reato abituale di evento a struttura causale per il quale è sufficiente verificarsi delle alterazioni delle abitudini di vita. Tu poi operi anche una differenza, no? Fai un'opera di discernimento tra stalking e molestia in questa tua pubblicazione, ma ne parliamo tra poco. Delitto di stalking, riflessioni giuridiche, psicologiche e criminologiche su questo reato, su questa condotta davvero deplorevole, che però, lo dicevamo prima, cara Maria Giovanna, va distinta dalla molestia in sé, vero? Sì, sì, va distinta. Allora, la molestia, che questo è richiamato anche disturbo alle persone, si ha quando in un luogo pubblico, aperto a pubblico, col mezzo del telefono per petulanza, si reca a qualcuno molestia o disturbo. Certo. E il reato è punito con l'arresto fino a sei mesi, è un reato di pericolo ed è ispirato da un diassinevole motivo caratterizzato da petulanza. Certo. C'è un atteggiamento pressante, indiscreto, che intervenisce in maniera sgradevole con l'altrissera privata. Invece diamo un esempio di reato di stalking, perché dicevamo prima, spesso e volentieri, la donna che subisce una determinata condotta non sa se quella condotta sia o possa essere penalmente rilevante, perché è vero che ci sono molte donne che pur avendo la consapevolezza di subire una condotta penalmente rilevante non denunciano perché hanno paura, ma ce ne sono altre tante e che non denunciano perché probabilmente non hanno contezza del fatto che quel comportamento sia oltre che disdicevole è anche un reato. Diamo un esempio di stalking, soprattutto alle giovani amiche che ci ascoltano, cara Giovanna. Lo stalking si manifesta in una serie di atteggiamenti volti a creare ansia, quali ad esempio pesinamenti, telefonate mute, danneggiamenti alle autovetture, alle case. È un reato che tutela la libertà individuale. Certo, quindi un reato che mette anche a dura prova queste libertà, perché la legge ormai vi fa rientrare tanti comportamenti rispetto a quelli diciamo di un tempo, tanti comportamenti che prima magari non erano neanche codificati. Maria Giovanna, noi ti ringraziamo per il tuo contributo, ti ringraziamo soprattutto per aver pubblicato questa pubblicazione sul reato di stalking. Noi vi invitiamo a chiedere l'amicizia, andare a vedere il profilo di Maria Giovanna Bloise, perché troverete tutte quante le informazioni anche per poter leggere, acquisire questa pubblicazione su un reato davvero odioso e su cui questa giovane giurista si è applicata con successo. Grazie cara, buona giornata. Grazie a te Ugo. Ne abbiamo parlato finora con Maria Giovanna, che ci ha anche dato qualche consiglio per capire cosa è stalking, cos'è invece molestia quando ricorra l'una, fatti specie, quando invece ricorra l'altra. Tutti consigli utili, ovviamente non abbiamo potuto approfondire più di tanto, siamo una trasmissione radiofonica, quel che potevamo fare cos'è? E' segnalarvi la pubblicazione di Maria Giovanna Bloise. Contattatela anche su Facebook, perché è un'avvocatessa, è una giurista di grandissima sensibilità sociale, che insieme a tante altre, a tanti altri suoi colleghi, sta facendo molto per sensibilizzare contro questi reati odiosi. C'è bisogno di farlo, cari presidi, cari professori, con una buona educazione sentimentale, con una buona educazione in genere che parta dal microcosmo della classe. Lasciate stare i convegni, lasciate stare quelle puttanate nelle quali i ragazzi e gli studenti servono solo a fare da CLAC, da spettatori, coinvolgeteli in discorsi educativi seri che insegnino ai ragazzi già in tenerissima età a familiarizzare con lo stalking e a capire che determinate condotte sono né più e né meno che una violenza. Radio CRT, Ugo Floro, un po' incazzato, ma ci stava, andiamo avanti con la musica. Reati che hanno purtroppo attinenza con il mondo, con la vasta, purtroppo gamma, delle violenze contro le donne. Maria Giovanna, lo ripeto, ha scritto un libro che è di facile consultazione, lo ha fatto con un linguaggio davvero molto chiaro, non solo a beneficio degli addetti ai lavori, ma anche delle donne, che si intitola Il delitto di stalking, riflessioni giuridiche, psicologiche, criminologiche, edito da CSDL, pubblicazioni giuridiche. Acquistatelo, chiedete alla diretta interessata facendo riferimento al proprio profilo Facebook, vi troverete una persona assolutamente disponibile, una giurista in trincea, nella lotta contro le violenze sulle donne. Grazie ancora Maria Giovanna, grazie ancora a voi per averne apprezzato il lavoro di cui abbiamo parlato e l'impegno nella puntata odierna che si sta concludendo di Floro in tanti minuti. Io vi rimando a quella di domani, tra le 7 e le 8, come accade dal lunedì al venerdì.